Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale e maxillofacciale da oltre 30 anni. Ciliagina sulla torta dell'allestimento Endy Surgery è il mobile Matrix, che è questo bellissimo mobile Inox nel quale è sostanzialmente compreso un monitor LCD da 42 pollici a scomparsa, che scompare quindi completamente dentro il mobile stesso e questo dà anche possibilità di igienizzazione chiaramente particolari. Al di là di questo aspetto, la caratteristica sicuramente fondamentale di questo mobile è quello di avere a disposizione, collegato al monitor LCD, una tastiera virtuale che viene proiettata in un supporto in materiale plastico sterilizzabile con il quale in sostanza l'operatore in sede intraoperatoria, quindi nel preciso momento in cui esegue l'intervento chirurgico, ha la possibilità direttamente con guanti sterili in mano di fare un'operazione che sostanzialmente, questo io lo sostengo in maniera assolutamente decisa, una manovra che è spesso direi necessaria, ovvero quella di andare a ricercare nelle immagini TAC, che sono ormai ovviamente esclusivamente in formato digitale, andare a ricercare nelle immagini TAC proiezioni, misurazioni, come vediamo ad esempio in questo momento nel monitor, che sono di particolare interesse in quello specifico momento intraoperatorio, quindi la possibilità di interagire con un supporto visivo che è quello appunto della proiezione dell'immagine TAC, senza doverlo demandare ad altri, anche perché questo in molte situazioni non è possibile, perché se io ricerco un'immagine esatta nell'esame TAC che ho precedentemente visionato, non posso dire alla mia assistente, sterile o non sterile o chi che sia, di andarmi a cercare quella precisa immagine, lo devo fare direttamente io operatore, quindi la possibilità di arrivare con guanti sterili, posizionarmi sulla tastiera, usare il mouse e andare a ricercare l'immagine esatta che richiedo, è assolutamente una possibilità che non è da prendere, da sottovalutare nella maniera più assoluta, quindi direi che questo mobile racchiude in sé una caratteristica di innovazione assolutamente molto molto particolare, molto utile. L'ultimo accessorio della linea Endy Surgery riguarda la zona lavaggio, la zona lavaggio raramente in uno studio odontoiatrico generico, anche qualora venga allestita una saletta chirurgica autonoma, prevede anche la presenza di un locale attiguo per la zona lavaggio, in alcune situazioni sì, ma di sicuro non è una situazione così comune, allora Tecnomed ha pensato a una soluzione alternativa, ovvero l'inserimento del lavello all'interno dell'ambulatorio chirurgico, ma con delle caratteristiche particolari, e sono appunto queste. Il lavello è praticamente racchiuso e nascosto all'interno di questo mobile, che può essere aperto, utilizzato, il lavello è utilizzato in maniera del tutto comoda, anche perché è di notevole dimensioni e una larghezza di ben 80 cm, il chirurgo si può lavare tranquillamente e dopodiché, una volta effettuata l'operazione di lavaggio, richiudere il tutto. Nel momento della chiusura del mobile stesso si aziona automaticamente una lampada ultravioletti che determina quindi chiaramente un abbassamento della carica microbica e quindi il tutto, una volta richiuso, rientra in questo contesto estremamente elegante, pratico e igienizzabile di tutta la linea Andy Surgery. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.